Emanuele Petri entra in polizia nell'ottobre del 1973 frequentando la scuola di polizia di stato di Trieste. Sovrintendente capo in servizio nella polizia ferroviaria il 2 marzo del 2003 si trova con i colleghi Bruno Fortunato e Giovanni Di Fronzo a svolgere il servizio di scorta viaggiatori su un treno regionale sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze. Durante una normale operazione di controllo decide di chiedere documenti e procedere all'identificazione di due viaggiatori Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, poi rivelatosi essere i capi delle nuove BR. Dopo aver esibito i documenti falsi i poliziotti si accorgono delle incongruenze e i due reagiscono nei loro confronti. Siamo alla stazione di Castiglione Fiorentino, tra i poliziotti e i due brigatisti si apre un conflitto a fuoco dove perdono la vita Emanuele Petri e Mario Galesi. Nadia Desdemona Lioce si salva ma verrà arrestata poco dopo. Grazie a questo viene riaperto il processo per la morte di Massimo D'Antona, consulente del Ministero del Lavoro dove Galesi e la Lioce risulteranno poi i responsabili. Il giorno della sua morte Petri non doveva nemmeno essere in servizio, aveva chiesto un cambio turno per assistere a un ex collega dei carabinieri malato gravemente. Alla sua memoria è stata conferita la medaglia d'oro al valore civile consegnata alla moglie Alma dal Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi. Anche il figlio Angelo ha poi intrapreso la carriera nella Polizia di Stato.